L'accorpamento IRCS Piemonte è ancora all'orizzonte ma il decreto attuativo non è pervenuto alla firma dell'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi. Esiste una bozza che legge o forse staziona tra le scrivenie dei dipartimenti competenti a Palermo. Mentre il titolare Gucciardi risulta il più delle volte irrintracciabile in mezzo alle sue riunioni istituzionali, uno dei promotori e firmatari della legge regionale numero 24 del 9 ottobre, Beppe Picciolo, assicura flemmatico questa mattina. Il decreto sarà esecutivo entro il 10 gennaio. La paura per tutto il territorio messinese è che allo scadere dei 90 giorni stabiliti dalla legge, ovvero il 16 gennaio, il pronto soccorso del presidio di Viale Europa dovrà comunque essere inglobato all'ospedale Papardo per sostenere la mancanza del personale all'interno di questo reparto. All'area dell'emergenza urgenza dovranno essere connesse tutte le specialistiche interessate. Questo vuol dire che branche come chirurgia generale e ortopedia dovranno essere trasferite al nosocomio della zona nord. Allo stato attuale sono impiegati sette medici di pronto soccorso al Piemonte e otto al Papardo. Per toccare quota otto nel plesso del centro urbano la direzione sanitaria ha disposto che il primario nonché capo dipartimento delle chirurgie Nino Gullà svolga il servizio al pronto soccorso per esempio la notte di Natale. Il responsabile dello staff dell'azienda Papardo Piemonte, Giacomo Nicocia, annuncia già da martedì 29 l'assunzione di due specialisti di supporto con incarico trimestrale. Uno lavorerà nella struttura centrale, l'altro a nord. Se il decreto attuativo tardasse ad arrivare si potrebbe trovare una soluzione intermedia per evitare di chiudere il pronto soccorso al Piemonte anche perché già una decina di medici del settore ha deciso di restare al Papardo. Si potrebbe profilare un pronto soccorso H12 o in sinergia con il Policlinico.